Vi racconto una storia, c'è in pratica questo bambino a scuola e la maestra dice a tutta la classe Bene, oggi facciamo un testo scritto, sono alle elementari quindi sono piccoli, i bambini iniziano a scrivere Scrivono, 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 scrivono Questo bambino, il nostro protagonista, lo chiamiamo Pierluigi Pierluigi scrive, 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 fino a quando riconsegna il testo alla maestra La maestra lo legge e legge un termine Tipo in mezzo a questo testo di Pierluigi c'è scritto Petaloso, scandalo, casino, interviste, articoli di giornalità Insomma, scandalo totale Li taglia in panico Giuro, non sto scherzando, questo è successo davvero nel 2016 Quando un bambino, non so come si chiamasse, sono abbastanza sicuro che non si chiamasse Pierluigi In un testo per scuola ha scritto Petaloso Che era un termine mai sentito prima In pratica se l'ha inventato Non so se pensava fosse reale Ma insomma si è inventato questo termine La maestra ha letto il termine, poi non mi ricordo se l'ha condiviso con qualcuno Insomma è successo che è finito su tutti gli articoli di giornali Fino a quando l'Accademia della Crusca l'ha inserito nel vocabolario italiano Cioè è diventato un vero e proprio termine italiano Che cos'è l'Accademia della Crusca? Lo leggerò da Wikipedia L'Accademia della Crusca è un'istituzione italiana con personalità giuridica pubblica Che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana Ho trovato quest'altra definizione che dice Accademia destinata allo studio e alla conservazione della lingua nazionale italiana In due parole l'Accademia della Crusca conserva la lingua nazionale italiana e l'aggiorna Perché ovviamente le nostre lingue sono qualcosa di costantemente in evoluzione Ma io perché vi sto parlando di queste cose? Semplicemente perché forse non sarò ancora a livello dell'Accademia della Crusca Che inseriranno i miei termini nel vocabolario italiano Però io spesso utilizzo delle parole che non esistono ancora in italiano Che per me vogliono dire tante cose Ma probabilmente voi che le ascoltate non capite cosa intendo Cioè la maggior parte di voi non può sapere cosa intendo E allora in questo video voglio spiegarvi cosa significano questi termini Che utilizzo spessissimo nei miei video E farvi capire perché li utilizzo Quindi in questo video scopriremo il vocabolario di MT Allora partiamo da uno dei termini che mi piace di più in assoluto Che è trastare il vibe Allora cosa vuol dire trastare il vibe? Trust in inglese significa fiducia Quindi trastare il vibe vuol dire fidarsi del vibe Che cos'è il vibe? Il vibe è importantissimo Il vibe è una sensazione indescrivibile Il vibe è il mood Cioè siamo sempre lì ok? Il vibe è l'umore collettivo Ovvero se siamo in più persone Qual è il vibe? Ovvero siamo ad una festa Siamo in un gruppo Siamo ad una cena Com'è il vibe? Sono tutti allegri Sono tutti pronti a spaccare il mondo Pronti a fare feste A divertirsi Oppure sono tutti morti E il vibe è morto E nessuno ha voglia di fare niente Sono tutti noiosi E tutti mi parlano di cose che non voglio sentire Quando sono insieme a degli amici spesso mi dicono Allora andiamo a fare festa questa sera Cosa facciamo? Vuoi che andiamo in discoteca? Vuoi che andiamo a quella festa? E io gli dico Trustiamo il vibe Vi racconto una storia Era il primo giugno 2022 Avevamo in mente io e Jack E anche Insane Screamer Di andare a fare festa la sera Perché c'era un'apertura di un locale qui dalle nostre parti Bello figo Abbiamo lavorato tutto il giorno Io dovevo chiudere un video Che era quello del mio nuovo studio Ovvero lo studio in cui mi trovo Mi ricordo che Insane Screamer era venuto da noi per fare festa Solo che io ero super 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 pieno di lavoro Tipo ho finito di lavorare alle 9 e mezza 10 In una serata d'estate Con tutti gli altri che mi aspettavano E dicevano Non so Non sarà bella questa serata Io gli ho detto Trustiamo il vibe Sono arrivato Mi sono vestito Ho messo la mia camicetta All'ingresso della disco Non volevano farci entrare Noi siamo entrati comunque Ed è stata una serata pazzesca Perché? Perché abbiamo trustato il vibe Quindi d'ora in poi quando dico trustare il vibe Sapete cosa significa Capiamo il vibe dove ci porta Fondamentale La seconda e la terza parola Sono quasi dei sinonimi Sono Cudumato E catafratto Cudumato è una roba che diciamo noi qua in Friuli O forse la dico solo io Non lo so Catafratto invece è un termine Che se non sbaglio Vuol dire tipo Con l'armatura addosso Qualcosa del genere Una volta qualcuno nei commenti Me l'aveva scritto Perché io continuavo a usarlo Nella maniera sbagliata E continuerò a farlo Nei secoli dei secoli Cudumato e catafratto Sono in pratica sinonimi Cosa vogliono dire? Sono molto molto stanco Infatti spesso dopo le mie sfide Sono catafratto Utilizzo questi termini Dico sono cudumato Sono catafratto Che vuol dire Sono molto molto stanco Va bene? La prossima volta che lo dico Sapete che vuol dire Passiamo al quarto punto della lista Questo non è un termine singolo Infatti Tantone delle mie parole Finiscono per One Tanto diventa tantone Stanco diventa stancone Forte diventa Non fortissimo Fortone Fortone E questo penso che sia una cosa abbastanza utilizzata in Friuli Quindi quando mi sentite dire tipo Non è pesantissimo È pesantone Questo è perché sono friulano E so che tante persone qui in Friuli lo utilizzano Non sono definito Sono definidone Non sono potente Sono potentone Allora adesso dovrei dirvi la mia parola preferita in assoluto di tutto il mio vocabolario Ma ho deciso che la tengo per la fine Quindi sarà l'ultima parola Passiamo quindi al quinto punto Questo è un termine che utilizzo molto Fottiti Non ci sono molte spiegazioni Ma sappiate che lo uso spesso Anche in maniera molto simpatica Quindi Fottetevi Punto numero 6 Una parola molto molto bella Unwatchable Perché sia chiaro Il vocabolario di MT Non è il risultato solo dei pensieri di MT E delle idee di MT Ma di tutte le esperienze nella vita E delle persone che ho frequentato Infatti moltissimi di questi termini Li ho sviluppati Soprattutto nella mia adolescenza In base alle persone che frequentavo Quindi se mi avete aiutato a creare questo vocabolario E siete stati parte della mia vita Grazie mille È anche merito vostro Quindi Unwatchable Cosa vuol dire? Inguardabile Oh hai visto che brutta è la macchina di quello là? Sì l'ho vista È unwatchable Oh ti piacciono i pantaloni di quella tipa? Sono unwatchable Cioè proprio è bello da utilizzare Unwatchable Inguardabile Punto 7 della mia lista Qui devo ringraziare il mio cameraman Ovvero il faraone Perché l'altro giorno stavo registrando una clip O forse l'avevo già registrata L'abbiamo rivista insieme E dicevo Sgarfare E il mio cameraman mi ha detto Lo sai che non è una parola italiana? E io gli ho detto Cosa cazzo stai dicendo? Sgarfare non è italiano? No no Questa è una parola che utilizzi solo tu O utilizziamo con i friuli Quindi Sgarfare vuol dire cercare Per esempio Ho sgarfato un po' su YouTube tra i video Vuol dire ho cercato su YouTube con i video Quindi sgarfare vuol dire cercare Ok? Ottavo punto Anche questa la utilizzo spesso Ed è una svalangata È abbastanza intuibile Una svalangata vuol dire tipo una valanga Di qualcosa Quindi per esempio Mettete una svalangata di like a questo video Vuol dire mettete tantissimi mi piace a questo video Oppure tantoni mi piace Avete capito eh? E quindi siamo arrivati all'ultimo termine Anche il mio preferito Del mio vocabolario Manda al montaggio Devastante 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 Questo è il mio termine preferito Devastante vuol dire qualcosa di incontenibile Pazzesco Fighissimo Incredibile Quindi devastante è ufficialmente Il termine del mio vocabolario preferito E me lo sentirete dire ancora Centinaia e centinaia e centinaia di volte Leone fatemi sapere nei commenti Qual è il vostro termine preferito Del mio vocabolario E anche se ne ho dimenticato qualcuno Perché potrebbe esserci qualcosa Che dico spesso Ma non mi sono ricordato in questa lista PS ci tengo a dire Che il mio vocabolario Come quello della lingua italiana È in costante evoluzione Non è che questa è la lista definitiva Il mio vocabolario si evolverà In base alle esperienze che avrò In base alle cose che farò In base alle persone che conoscerò Quindi sicuramente riporterò un altro video Sul mio vocabolario prossimamente Dobbiamo dare un po' di tempo Al mio vocabolario Di evolversi E un giorno o l'altro L'Accademia della Crusca noterà anche noi